Musica Elezioni provinciali entro il 30 novembre, la presentazione delle liste confermata al momento la ricandidatura di Guzzo e Sorrentino Roscigno inaugurata la nuova sede della BCC Montepruno dopo i lavori di ammodernamento presenti area museale, sede della fondazione Montepruno I paesi salernitani nelle fiabe Disney, l'idea del giovane Luciano Burlini di Petina che sta riscuotendo grande successo sui social Violenza sulle donne, il flash mob di Salerno a fa solidanza in piazza della Libertà per dire bassa alla violenza contro le donne Sala Consilina, affidata alla gestione delle oltre 380 piante di olivo presenti sul territorio sarà un'azienda di grumento nova ad occuparsi delle piante Ben trovati con il nostro appuntamento con informazioni di Uno News In apertura la politica, mancano ancora pochi giorni per la definizione delle liste da presentare alle prossime elezioni provinciali in programma il 20 dicembre e ancora una volta riservate ai soli consiglieri comunali e sindaci dei 158 comuni del Salernitano Tutto in alto mare per diversi schieramenti Sui no, mi pare vi sia la certezza della ricandidatura per Guzzo e Sorrentino Vediamo Pochi giorni ancora e poi saranno rese note le liste per le prossime elezioni provinciali che anche per quest'anno coinvolgeranno solo i consiglieri comunali e i sindaci dei comuni salernitani I 158 consigli comunali del Salernitano saranno dunque chiamati alle urne il prossimo 20 dicembre quando dovranno recarsi presso la sede della provincia di Salerno per eleggere i componenti il consiglio Potrebbe trattarsi dell'ultima tornata elettorale in cui i cittadini sono esclusi dalla scelta dei delegati in consiglio provinciale dato che il governo Meloni sta lavorando alla riforma della legge del Rio che da ogni parte, indipendentemente dal colore politico ha trovato serie contrapposizioni ritenendola una riforma capace solo di svuotare la provincia di risorse lasciando le competenze e le responsabilità Una riforma che come sottolineato anche da alcuni esponenti politici non disposti alla candidatura riserva agli eletti un mero incarico di rappresentanza che per chi ricopre il ruolo di sindaco toglie tempo alle comunità guidate Entro giovedì 30 novembre le liste dovranno essere presentate Al momento sembra ancora tutto da definire per i vari schieramenti con il gruppo di Fratelli d'Italia che pare sia l'unico partito ad aver già pronta la lista Per ciò che riguarda gli uscenti, tra i nomi confermati vi sono anche quelli di Giovanni Guzzo, consigliere comunale di Novivelia e il residente a Padula che al momento ricopre l'incarico di vicepresidente della provincia di Salerno e che sarà candidato nella lista del Partito Democratico e Pasquale Sorrentino, vice sindaco di San Giovanni Appiro in lista per il PSI Quest'ultimo partito dovrà fare i conti con la decisione di Alessandro Chiola sindaco di Monte Corvino Pugliano che ha deciso di non ricandidarsi per via proprio della legge del Rio che ha svuotato le province creando quindi un buco istituzionale Al momento dunque nessuna certezza se non per alcuni nomi sui candidati alle prossime elezioni del Consiglio Provinciale in programma il 20 dicembre Al momento il Vallo di Diano pare possa contare solo su Giovanni Guzzo come suo rappresentante La cronaca Sabato scorso 25 novembre i carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno dato seguito ad un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della locale procura di custodia cautelare nei confronti di due uomini di cui uno in carcere e per l'altro invece scattata la misura degli arresti domiciliari per il reato di furto aggravato in concorso i due si sarebbero resi responsabili dei furti di biciclette elettriche che sono avvenuti nei comuni di Atrani, Amalfi, Conca dei Marini nell'agosto scorso E ancora a cronaca ci spostiamo a Capaccio Pestum dove lo scorso venerdì 24 novembre i carabinieri della locale stazione unitamente al militare del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Agropoli hanno tratto in arresto e in flagranza di reato per spendita ed introduzione di monete false tre persone di cui un italiano e due di origini straniere uno dei tre peraltro è stato anche accusato di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale i soggetti arrestati a seguito perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di banconote false di vario taglio per un totale di 14.500 euro Cambiamo ora argomento andiamo negli Alburni precisamente a Roscinio dove sabato scorso 25 novembre è stata completata la fase di rinnovamento delle sedi della BCC Montepruno ultima sede ad essere stata oggetto di ammodernamento la sede da cui tutto è partito ossia proprio quella di Roscinio una sede storica e che da sabato scorso ospita anche la storia con un'area museale allestita all'interno dell'edificio vediamo in un piano generale di rinnovamento delle diverse filiali della BCC Montepruno sabato scorso è toccata la storica sede legale di aprire le sue porte al futuro dopo i lavori di ristrutturazione che hanno interessato i diversi uffici l'ingresso, le casse un rinnovamento non solo estetico ma anche nella sua azione che attraverso proprio l'organizzazione degli spazi crea una fusione tra passato e futuro mantenendo le radici ben saldi in quelli che sono stati da sempre i valori che hanno guidato l'attività di tutti i collaboratori della BCC Montepruno su insegnamento del direttore generale Michele Albanese ossia l'ascolto e la vicinanza al territorio la storia è raccontata nella mostra espositiva dove è possibile anche trovare pezzi rarissimi del mondo bancario accuratamente conservati dall'istituto di credito e ora in esposizione nello spazio dove sono anche presenti le casse l'attesa dunque dei clienti prima di poter svolgere le proprie operazioni passa dalla storia per imprimere nella mente di tutti il sacrificio e la lungimiranza di chi ha portato a Roscigno la Cassa Rurale d'Artigiana al servizio delle persone è veramente un grande piacere e un orgoglio per noi poter inaugurare questi nuovi locali della sede storica della Banca Montepruno è una sede che ci ricorda tante cose queste immagini ci portano dietro nel tempo ma sicuramente ci proiettano in un futuro qualcuno ha scritto che partiamo dal passato per arrivare al futuro forse questo è vero e siamo veramente fieri e orgogliosi di aver realizzato quest'opera grazie ai nostri tecnici Orlaccio e Iannicelli che hanno voluto diciamo con forza e con capacità esprimere tutta la loro professionalità veramente siamo soddisfatti di questo ottimo lavoro è un valore che abbiamo voluto aggiungere a quello che erano già i tanti tasselli della nostra banca un valore della riconoscenza un valore delle origini tutto nasce di qui e di qui che vogliamo tornare di qui che vogliamo iniziare Dal passato al futuro al piano superiore infatti sono stati allestiti gli uffici della Fondazione Montepruno che seguendo il percorso tracciato dalla Cassa Rurale d'Artigiana di Roscigno visse le nuove norme che regolano il credito cooperativo avrà l'importante compito di proseguire nel futuro il cammino intrapreso nel passato come organo di supporto sociale alle comunità Bello è anche tutto lo spazio che abbiamo voluto riservare alla nuova sede legale della Fondazione che sarà poi il braccio destro ed operativo della nuova banca Montepruno perché da gennaio la banca Montepruno si separeranno nettamente i ruoli da una parte avremo la banca che svolgerà il suo ruolo istituzionale che è quella di finanziare raccogliere e fare la banca dall'altra parte avremo la Fondazione che si interesserà di tutta la parte sociale della parte della mutualità degli avvenimenti di tutte quelle che sono poi le attività che fino ad oggi ha svolto la banca ed è per questo che veramente oggi siamo felici abbiamo visto sui volti delle nostre persone gli amici ma i dipendenti stessi che lavorano con grande soddisfazione in questo ambiente così bello perché no? perché non ricordare i 30 i 30 coraggiosi che vogliono realizzare questa opera io credo che se ci guardano da lassù sicuramente saranno fiere e orgogliose di noi così come lo è l'allora presidente Michele Albanese che diciamo ha dato la prima spinta ha voluto questa sede istituzionale quando nessuno ci pensava quando nessuno aveva il coraggio di osare lui ha avuto questa capacità e oggi ci ritroviamo a ristrutturarla ci ritroviamo ad ammortizzarla e quindi in un ambiente moderno sicuramente esprimeremo il meglio di noi stessi nella serata di sabato 25 novembre dunque nuovo appuntamento che ha regalato tantissime emozioni e ricordi in una cerimonia che ha restituito ai clienti della banca Montepruno una sede più accogliente dove è presente la nuova area storica la nostra storia le nostre radici la cerimonia a cui hanno preso parte tantissime persone si è aperta con il taglio del nastro e la benedizione dei nuovi spazi da parte del parroco di Roscigno Don Andrea Perilli a seguire le parole della presidente Anna Miscia e del direttore generale Michele Albanese Ad inaugurare la nuova sede della BCC Montepruno non potevano mancare oltre al direttore generale Michele Albanese e anche la presidente del consiglio d'amministrazione Anna Miscia e il vice direttore generale della BCC Montepruno Cono Federico che mettono in evidenza l'importanza di conoscere la storia e le proprie radici per costruire il futuro ascoltiamoli Questo è stato l'inizio del rilancio della banca senza questa sede non ci sarebbe stato il rilancio è qualcosa che è stato fortemente voluto sia dagli ex presidenti che dall'attuale direttore quindi dopo tanto tempo lui ha sentito il bisogno di ristrutturare questo edificio che ripeto rappresenta veramente la storia della banca il punto di inizio e questo è un punto di rilancio ulteriore per quello che sarà il futuro della Montepruno Conoscendo il direttore futuro presidente della fondazione sapendo quali sono diciamo i suoi obiettivi oggi come oggi lui già ha fatto presente che intende rilanciare questi paesi perché purtroppo lo spopolamento è un qualche cosa che li sta veramente distruggendo ma nello stesso tempo non essendoci attività questi giovani se ne vanno qui restano a fare che e quindi ci vuole qualcuno che incomincia a dare lo stimolo ad iniziative nuove che consentano quindi di creare posti di lavoro e di rilanciare questi territori si non c'è futuro se non c'è memoria questa è una frase che si dice spesso ma effettivamente è così e oggi appunto questo vuole essere un ponte o meglio vuole essere un trampolino di lancio per l'ulteriore futuro che aspetta la banca Montepruno verso nuovi traguardi era corretto ricordare appunto quando è nata questa banca quindi con una sorta di quasi di museo con delle fotografie dei testi che rievocano chi l'ha fondata tutte le varie tappe di questi primi 60 anni e quindi rilasciare anche appunto Roscini al territorio d'origine è qualcosa di nuovo che proietti la Montepruno nel futuro la banca è assolutamente solida oggi siamo appunto in un gruppo che ci permette di poter operare in maniera ancora più ampia e diversificata rispetto a prima ma la Montepruno è il resto una banca locale attenta al territorio e quindi anche l'inaugurazione di questi nuovi locali qui a Roscini testimona proprio l'interesse anche per le aree interne e quindi non solo per le città noi vogliamo essere la Montepruno ovunque e quindi anche per ringraziare i clienti i soci che ci onorano della loro presenza il giovane Luciano Burlini sta riscuotendo grande successo sui social per la sua simpatica iniziativa che racconta i comuni del Salernitano con i colori e le forme dei cartoni della Disney un'iniziativa che riempie di colore e fascino i paesi del Salernitano a cui si sta dedicando anche attraverso uno studio dei diversi centri abbiamo raggiunto il giovane Luciano Burlini laureato in archeologia che però ha scelto di continuare a vivere nella sua terra e attraverso i colori e il fascino della Disney ne racconta le bellezze e le unicità ma ascoltiamo dalle parole dell'autore dei disegni delle opere da dove ha preso l'idea e come realizza i disegni l'idea me l'ha data un altro ragazzo un ragazzo del napoletano il quale ha deciso di utilizzare appunto l'intelligenza artificiale per rappresentare appunto Napoli e tutti i quartieri di Napoli e girovagando poi appunto su web di solito ho trovato altre immagini però tipo di Roma Milano comunque di centri abbastanza conosciuti e anche voglio dire ma perché non fare la stessa cosa con tutti i piccoli paesi della provincia di Salerno logicamente partendo dai mei alburni perché sono di Betina e poi estendermi appunto tutte le altre zone dal Tanagro e così via e ho cercato appunto questa intelligenza artificiale utilizzando precisamente Microsoft e da lì poi c'è un secondo lavoro ovvero l'intelligenza artificiale ti crea ciò che vuoi mettendo appunto scrivendo appunto delle informazioni ad esempio un paese su una montagna con un fiume più descrizioni più dettagli dai più l'intelligenza artificiale ti crea il modello il problema è per quanto riguarda il nome del paese soprattutto se sono paesi con con le doppie sballa cioè il programma non scrive in modo corretto quindi il mio lavoro è quello prendo l'immagine dell'intelligenza artificiale la passo su Photoshop cancello modifico la scritta e metto appunto il nome del comune corretto in modo corretto molti paesi usano l'occasione comunque di vederli dal vivo altri invece ho tanti amici quindi chiamandoli che hanno appunto tipo che ne sono il caso di laureito ecco ho fatto questo paese di laureito è un paese di uno dei miei migliori amici dell'università però non ho mai avuto l'occasione di visitarlo quindi chiamandolo lui mi ha detto guarda c'è questo tipo di manifestazione c'è questa chiesa che è quella più importante c'è questo evento che si fa in questo periodo e quindi io prendo tutte le informazioni le vado a scrivere appunto sull'indirigenza artificiale di Microsoft e la ottengo se non mi piace la rifaccio la riformulo in modo diverso finché non ho un'immagine molto più simile cioè simile che vi chiama che vi fa pensare appunto a quel paese tutto è partito da TikTok Instagram comunque qualcuno mi ha chiesto bello questo paese è nata mia madre non ci sono mai stato però quindi comunque c'è l'interesse magari io spero proprio in quello che qualcuno decide voglio andare a vedere quel paese voglio andare a vedere Petina voglio andare a vedere Salvitelle proprio con quella curiosità di portare un po' di genio un po' di conoscenza i nostri piccoli geni che sono belli molto sottovalutati ma sono belli sono contento anche di aver superato il concorso ASMEL che ciò mi permette appunto di lavorare comunque a prescindere poi dall'interpello se sarà fatto a Petina a Sala a Salerno il primo comune cioè io vado a rispondere comunque mi permetterà di stare qui in zona perché il mio obiettivo comunque è quello di ecco cerco di contribuire a portare gente a far conoscere i luoghi infatti anche su Instagram cerco di fotografare monumento dalle cose appunto da un monumento da un rudere alla montagna proprio perché ci può essere qualcuno che guarda quella fotografia guarda quel video si incuriosisca e decide di andare appunto in quel luogo ci fermiamo ora per qualche minuto di pubblicità tra poco bentornati con la seconda parte del nostro TG andiamo a Salerno dove ieri mattina domenica 26 novembre le scuole di danza di Salerno si sono riunite per dare vita ad una emozionante manifestazione finalizzata a dire basta alla violenza sulle donne prima il corteo lungo il corso principale di Salerno e successivamente giunti in piazza della libertà lo spettacolo di danza per dire basta alla violenza sulle donne se il colpo d'occhio fosse proporzionale all'impatto le scuole di danza salernitane potrebbero essere già certe di aver centrato l'obiettivo di fermare l'inquietante crescita di reati legati a violenze contro le donne il giorno dopo il 25 novembre piazza della libertà si è colorata di rosso in nero ieri mattina con il corpo e le scarpette di 150 ballerini il corteo con lo striscione dillo con la danza libere tutte ha attraversato corso Vittorio Emanuele per raggiungere il nuovo centro della città il flash mob sulle note della musica al termine del lungomare nella piazza della libertà è stato promosso nell'ambito delle iniziative che hanno messo insieme la prefettura di Salerno e l'assessorato alle politiche sociali del comune oltre naturalmente alle scuole di danza delle maestre Federica Ferri Loredana Mutali Passi e Valeria Milingi siamo qui il 26 novembre il giorno dopo la giornata internazionale che grida no alla violenza contro le donne ha fatto notare Paola De Roberto assessore alle politiche sociali del comune di Salerno proprio per dire che le iniziative e l'impegno di tutti per formare la violenza contro le donne deve durare tutto l'anno e non deve bloccarsi al 25 novembre intanto prosegue presso la prefettura di Salerno la mostra fotografica ferita a cura di Valentina Gaudiosi dedicata alle donne vittime di tratta che sarà aperta al pubblico per tutta la settimana previsto anche un concorso creativo nelle scuole libere tutte contro ogni violenza per sensibilizzare i più giovani su questo delicato argomento nessuna azienda del territorio valdianese e men che meno di Sala Consilina ha presentato una candidatura per la gestione delle 383 piante di ulivo di proprietà dell'ente comunale di Sala Consilina così l'amministrazione Cavallone ha stabilito di affidare l'incarico ad una ditta di Grumento Nova che ha partecipato al bando Sarà una sola azienda agricola a gestire le piante di ulivo presenti a Sala Consilina e quanto decretato dall'Aggiunta Comunale Salese che nei giorni scorsi ha deliberato per l'assegnazione della gestione delle piante di ulivo presenti su tutto il territorio comunale all'azienda agricola Fornino Rosa di Grumento Nova unica azienda ad aver partecipato al bando e che pertanto si occuperà della raccolta e della gestione delle 383 piante di proprietà del comune di cui 324 nella villa comunale 7 nel parcheggio della Guardia Medica 5 nell'area della Pala Zingaro 35 nel parcheggio Cravatta 2 in via Giocatori 5 nel parcheggio posto fra via Pozzillo e via Mezzacapo 5 nell'area dell'auditorium Cappuccini inizialmente suddivisi in più lotti nessun'altra azienda e soprattutto nessuna azienda o associazione o impresa di sala Consilino del Vallo di Diano ha voluto partecipare al bando per la raccolta delle olive presenti sulle piante oltre che per la gestione delle piante stesse un bando che avrà durata di un anno e che affida l'incarico all'azienda che si occuperà anche dell'ammolitura delle olive restituendo nel 25% al comune di Sala Consilina l'olio che entrerà nella disposizione del comune salese sarà destinato in via prioritaria alle famiglie bisognose del territorio che come riportato nella delibera saranno individuate con apposito avviso pubblico la decisione di provvedere con il bando per la gestione e la cura delle piante come avviene da alcuni anni è dovuta essenzialmente come è precisato nel corso della delibera all'impossibilità per l'ente di poter usufruire di adeguata mano d'opera per il lavoro che richiedono le piante che peraltro vista la mancata assegnazione della gestione e della cura negli anni passati a privati al momento necessitano di immediata manutenzione e ancor più di provvedere alla raccolta delle olive ci spostiamo ora a Sanza grande successo ieri sera per Ulderico Pesce con lo spettacolo i sandali di Elisa Claps una serata speciale promossa dalla consulta delle donne di Sanza e dall'assessorato alle politiche sociali del comune in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne successo ieri sera nella sala conferenza del CEA a Sanza per lo spettacolo i sandali di Elisa Claps di Econ Ulderico Pesce una serata speciale promossa dalla consulta delle donne di Sanza e dall'assessorato alle politiche sociali del comune per onorare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne la performance con Pierangelo Camodea e Samantha Franchino ha suscitato un turbinio di sensazioni che ha travolto il pubblico in sala parole di grande apprezzamento da parte del sindaco Vittorio Esposito che ha affermato è necessario trovare la forza per reagire culturalmente e superare stereotipi retaggi culturali e debolezze che hanno alimentato e alimentano l'aberrante fenomeno della violenza sulle donne un modo diverso per dire noi tutti ad alta voce ora basta ha sottolineato la presidente della consulta Concetta Grimaldi non è più tollerabile nessuna forma di violenza nessuna prevaricazione la vicenda della povera Elisa e il silenzio calato per ben 17 anni sulla sua scomparsa sono l'esempio di come quando la società non chiede verità non vuole vedere i drammi e le tragedie si possono consumare dinanzi ai nostri occhi eppure noi non vediamo o fingiamo di non vedere ha aggiunto la presidente Grimaldi la pièce è stata scritta da Alderico Pesce con la collaborazione della signora Filomena madre di Elisa e di Gildo fratello di Elisa la tragica storia di Elisa la ragazza di 16 anni che viene barbaramente uccisa nel sottotetto della chiesa della Trinità di Potenza dove rimane scandalosamente nascosta per 17 lunghi anni la mano omicida hanno concluso gli inquirenti fu quella di uno spasimante respinto da Elisa Danilo Restivo che oggi ha 51 anni condannato con sentenza irrevocabile a 30 anni di reclusione l'uomo sta scontando la pena in Inghilterra dove è stato condannato per un altro delitto quello di Heather Barnett una sarte inglese uccisa il 12 novembre 2002 a Charminster nel Dorset lo spettacolo ha visto la presenza anche di due opere pittoriche di grande spessore artistico opera del pittore Callogero Franco che hanno accompagnato la scena ed era questo l'ultimo servizio di oggi vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi